C'è stata un'altra volta che il mondo ha parlato molto di noi, è stato con Silvio Berlusconi, che ricordo ne ha? Silvio Berlusconi, beh ho il ricordo di un uomo melodrammatico, ecco, melodrammatico dove cioè quelle opere nelle quali la comicità può andare insieme non alla tragedia ma al dramma, perché Silvio Berlusconi ha rafforzato il pregiudizio contro di noi. Allegri, guardi io era a Bruxelles il giorno in cui lui incontrò Helmut Kohl, un gigante tedesco proprio di quelli, spuntò Berlusconi da una breve scalinata, aveva i tacchi alti così, era truccato come sono truccato io adesso e scendeva questa scala con un po' di impaccio per via dei tacchi. Kohl era lì a un metro e lo vedi sobbalzare, era la prima volta che lo vedeva dal vivo, proprio trasalì, come si dice. Ecco, veda, Berlusconi ha dato il cattivo esempio che si poteva essere insultare gli avversari, la magistratura, fare delle cose che lo esponevano a possibili eventuali ricatti e occupando posizioni di immensa responsabilità. Io un francobollo commemorativo l'orrei dato a uno di quegli eroi civili che abbiamo citato prima.